Il Forum dei Giovani di San Cipriano Picentino presenta la quinta edizione di Fora Will, festival d'arte di strada che si terrà l'ultimo weekend di settembre. Per l'occasione sabato 8 settembre alle ore 18.30 presso la Villa Comunale sarà inaugurato il primo murales della Kermess dedicato a Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra, e a seguire un momento di riflessione dedicato agli esempi virtuosi da seguire sulla lotta alla criminalità organizzata. che vedrà dopo i saluti dell'amministrazione comunale gli interventi di Giuseppe De Caro, giornalista RAI e membro del coordinamento provinciale di Libera, Ivan Romano, fotoreporter che illustrerà un lavoro realizzato a Scampia, ed infine Raffaele Marra, writer, autore del murales.